Con Massimo Guerrieri parliamo oggi dei rendiconti bancari che dovrebbero essere arrivati in questi giorni a casa dei clienti. Guerrieri, può spiegarci di che cosa si tratta e a quali spese fanno riferimento? Sì, ormai da qualche anno le banche e gli istituti di credito hanno questo obbligo di spedire almeno una volta all'anno e dovrebbe essere spedito entro il 28 febbraio a casa dei clienti un rendiconto che va a sommare tutti i costi inerenti agli investimenti. Consideriamo che le banche non emettendo fattura ma neanche i gestori dei vari strumenti dedicati agli investimenti non emettendo fattura hanno questo obbligo di comunicare al cliente quanto costa proprio a livello di spese il servizio legato agli investimenti. Normalmente viene invitato insieme a una serie di relazioni, andamenti sui mercati e quant'altro. Ecco, l'invito che io faccio, insomma, a chi ci ascolta è di concentrarsi su quella paginetta proprio che dovrebbe essere analitica, quindi per ogni investimento, fondo comune, assicurazione, gestione patrimoniale. Ogni investimento che ho presso la banca dovrebbe indicare le varie tipologie di costi a cui è soggetta. Come si spiegano costi elevati come nell'esempio che abbiamo visto? Sì, come dicevo, non solo in questi anni i costi delle banche sono lievitati ma abbiamo tre tipologie di costi fondamentalmente. Abbiamo una commissione d'ingresso, mi riferisco ai fondi comuni che sono strumenti che la maggior parte delle persone ha, costi legati alla gestione annua e poi abbiamo costi di performance fee, cioè legati alla performance. Quindi l'invito appunto che facevo poc'anzi era di andare a leggere quella paginetta che riguarda proprio i costi degli strumenti per rendersi conto a quali costi è soggetto il mio investimento. Perché in un'epoca come questa di tassi negativi o in ogni caso bassi ovviamente noi vediamo che abbiamo dei costi spesso che superano il 3% ed essendo una sommatoria di questi tre costi già andare a trattare il costo con i propri studi di credito può valere non solo la pena ma anche portare a casa il rendimento annuo per poi controbattere l'inflazione. In questo rendiconto non sono compresi i costi dei conti correnti. Qual è la situazione? No, i conti correnti ovviamente i costi vengono evidenziati nell'estratto conto. Anche qui notiamo come i costi ultimamente siano stati aumentati in maniera importante, specialmente poi con queste fusioni, queste chiusure di sportelli. Insomma, siamo tuttora in un momento di aggregazione bancaria e di trasformazione e quindi i costi ovviamente voi sapete che chi paga è sempre il cliente e quindi i costi abbiamo visto che stanno lievitando. L'importante è andare a verificare per chi ha il conto corrente da lungo tempo le condizioni. Lì si può vedere con l'estratto conto che è arrivato il 31 dicembre, quindi a casa dei clienti a fine gennaio più o meno, perché vediamo che chi non tratta le condizioni, quindi questi clienti che hanno un conto corrente da tanto tempo, hanno avuto degli incrementi molto molto importanti. I conti online possono essere una soluzione? Sì, un'altra cosa che abbiamo notato è che i conti correnti online, direi che ormai quasi tutte le banche offrono questa soluzione, hanno dei costi decisamente inferiori. Quindi vediamo, mediamente sono un terzo, cioè si ottiene avendo un conto online degli sconti del 60-70%, quindi sono sconti importanti rispetto ad avere il classico conto corrente allo sportello. Normalmente gli istituti bancari sono quelli o istituti che appartengono a una casa madre, a un gruppo importante, quindi anche a livello di sicurezza non ci sono problemi. Ricordiamo che fino a 100.000 euro per intestatario e per conto i depositi sono garantiti dal fondo interbancario e quindi è bene concentrarsi proprio sui costi perché vediamo che le differenze sono notevoli.